Questo programma è offerto da Centro Sportivo Football 24, un'oasi sportiva immersa nella città. Le previsioni del tempo per la provincia di Messina. Oggi, venerdì 7 marzo, cielo poco parzialmente nuvoloso per l'intera giornata. Le temperature oscilleranno tra gli 11 e i 14 gradi. I venti soffieranno deboli da ovest e nord-ovest su entrambi i versanti. I mari, mosso sia il Tirreno che lo Ionio. Grazie a tutti.